Ritorniamo al balletto. Volevo dirvi due cose, non l'ho fatto in apertura, ma lo faccio adesso. Il gruppo Arabindi Beats è stato fondato tre anni fa dalla maestra Roberta Pilutti. Proporrà altre coreografie che spaziano tra la danza classica, folcloristica, moderna e fantasy di matrice orientale. Questa disciplina antichissima ha subito nel corso dei secoli numerosi cambiamenti della sua natura, originariamente rivolta a tutto ciò che era sacro e religioso. Arriva ai giorni nostri ricca di sfumature che raccontano storie di tempi lontani, coinvolgendo le danzatrici e gli spettatori in una spirale di sogno e di magia. Il tutto è ispirato naturalmente alla femminilità. Donne di qualsiasi età possono avvicinarsi all'apprendimento di questa disciplina, traendo benefici per il proprio corpo e non soltanto per il proprio corpo, ma anche per il proprio spirito, evidentemente. Allora, adesso il gruppo eseguirà la danza dei veri su musica om-om, non è una battuta, è proprio si chiama così, om-om dei galatti carama. Acqua, aria, terra, fuoco. Quattro elementi indispensabili per la sopravvivenza, un equilibrio perfetto e delicato che regola la vita. Con questa danza un rito, una preghiera per i beni preziosi che la natura ci offre. Arabindi, Pizzi. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.